Due grandi vie per la vita del cristiano, la via del matrimonio, del sacramento del matrimonio e la via del sacramento dell'ordine, entrambi sacramenti di servizio, ne ha parlato oggi Papa Francesco. A proposito dell'ordine a cui ha dedicato tutta l'udienza di questo mercoledì, Papa Francesco ha ricordato che il prete, il vescovo, il diacono sono al servizio della Chiesa, a capo di essa, così come Cristo è stato a capo, ma ha dato la sua vita fino alla fine. Ha anche però esortato a un amore per la Chiesa che non voglia dire senso di possesso. La Chiesa non è di proprietà del vescovo o del prete, ma il vescovo e il prete sono al suo servizio. E infine il Papa ha anche esortato preti e vescovi ad un'altra cosa, a continuamente ravvivare il loro ministero con la preghiera, la celebrazione dell'eucaristia, la confessione. Ultimo richiamo molto interessante del Papa ai fedeli, ha detto aiutate i vostri preti a essere buoni preti, invitateli a confessarsi, a pregare, a celebrare bene l'eucaristia quotidiana.